Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro di Biennale Tecnologia col professor Stefano Zacchiroli che ci parlerà dell'importanza dell'accessibilità del codice sorgente del software. Mi presento, sono Federica Cappelluti, sono una docente del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni al Politecnico e sono referente del Rettore per la Scienza Aperta. Il software oggi permea ogni ambito della nostra vita sociale e anche ogni ambito della ricerca scientifica e il codice sorgente in particolare rappresenta una preziosa forma di conoscenza tecnologica la cui accessibilità e condivisione costituisce uno dei tre pilastri della scienza aperta insieme alla condivisione delle pubblicazioni e alla condivisione dei dati. Questo perché è necessario poter validare da parte della comunità scientifica e anche poi riutilizzare quelli che sono i risultati di questa conoscenza. In questo senso il Politecnico è attivo da diversi anni proprio perché vede nei principi della scienza aperta un volano per rendere la ricerca sempre più, io dico, genuinamente eccellente nel senso di solida, riutilizzabile e quindi di un impatto importante per la società. In questo ambito diciamo che siamo coinvolti in diversi progetti, sia nazionali sia internazionali, con il CNR, con diverse università italiane e europee, proprio nella condivisione diciamo di questa vocazione a introiettare in tutto il processo della ricerca scientifica ma anche nella governance e anche nella formazione i principi e le buone pratiche della scienza aperta. Poi se uno apre un po' di più lo sguardo diciamo che si rende conto che il problema dell'accessibilità e della preservazione del codice sorgente impatta la società nel suo insieme proprio perché oggi gli algoritmi e i dati possono andare a toccare aspetti della vita di ogni individuo e in questo senso è essenziale diciamo è quasi un fatto etico il fatto di poter avere accessibilità a questo codice sorgente che è una forma intellegibile per ogni essere umano in modo da come dire renderlo robusto e salvaguardarne anche la qualità e gli esiti. Quindi basta pensare ad alcune problematiche per esempio mi viene in mente quella del pregiudizio algoritmico essendo il codice un prodotto della creatività umana l'algoritmo stesso può anche recepire quelli che magari sono dei pregiudizi diciamo dei bias cognitivi dello sviluppatore. Quindi sono super lieta e onorata anche di ospitare il professor Stefano Zacchiroli per la sua lezione intitolata l'importanza del codice sorgente per la società. Stefano è docente di informatica a Telecom Paris l'istituto politecnico di Parigi i suoi interessi di ricerca includono i beni comuni digitali l'ingegneria del software libero ed open source, la sicurezza informatica e tutta la catena di distribuzione del software. Ecco fondatore e direttore tecnico di Software Heritage che è il più grande archivio pubblico al mondo di codice sorgente è sviluppatore dal 2001 del progetto Debian di cui è stato anche project leader tra il 2010 e il 2013 è stato membro del consiglio di amministrazione dell'open source initiative e ha ricevuto nel 2015 il premio O'Reilly open source award. Quindi ringrazio Stefano e gli lascio la parola. Grazie Federica per l'introduzione e per l'invito a questo bellissimo evento. Dunque entriamo, abbiamo già parlato a sufficienza di me quindi entro nel vivo di questa lezione. Le slide sono in inglese ma io ovviamente parlerò in italiano e il punto di partenza di cui voglio parlarvi è il ruolo del software della nostra società e questa nozione che cominciamo un po' a comprendere e a studiare da una decina d'anni del software bene comune. Allora, come Federica ha già evocato, oggi il software è ovunque nelle nostre vite. Le nostre società sono sempre di più connesse e l'interazione che noi abbiamo con una quantità di servizi o di persone o di attività nella società è sempre di più mediata dal software. E questa nozione di mediazione è molto importante. Cosa intendo con questo? Intendo che se vent'anni fa o trent'anni fa per pagare le imposte si andava in un ufficio e si interagiva con della carta delle persone, oggi questa attività che in quanto cittadini dobbiamo fare è mediata da un software. C'è un software che riceve la nostra situazione dei redditi, c'è un software che calcola quanto dobbiamo pagare di tasse e ci invia un addebito potenzialmente sul nostro conto in banca o che successivamente dobbiamo pagare noi. Questo è un esempio. Sono attività molto più quotidiane che sono mediate dal software. Quando inviate un messaggio su una qualche app sul vostro telefono, il vostro messaggio passa attraverso tutta una serie di applicazioni software che girano in parte sul vostro telefono, in parte su dei server lontani da voi, fino a consegnare il messaggio ai vostri destinatari. Ancora di più ci sono persone che hanno bisogno di dispositivi medici, a volte impiantati nei nostri corpi, per vivere bene, pacemaker o dispositivi di questi tipi. In quel caso il software ci tiene letteralmente in vita. E anche senza arrivare a questi casi, quando voi frenate la vostra auto o la vostra moto, c'è tantissimo software che si profrappone tra la vostra azione di frenare e l'effetto di ridurre la velocità del vostro veicolo. Quindi tra voi e un sacco di attività che fate tutti i giorni c'è tantissimo software. Questo fa sì che sia importante sapere cosa fa questo software, come se ne parla recentemente dal punto di vista del bias algoritmico che Federica ha evocato, ma questa cosa è molto più presente nelle nostre vite di quanto immaginiamo e non dipende affatto solo dall'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale nei prodotti e software di oggi. Quindi, primo elemento, un sacco di attività che compiamo ogni giorno sono mediate da software. Una parte di questo software che è prodotto è software che si chiama software libero o open source. Non entrerò oggi nella distinzione tra queste due nozioni, ma cosa intendo con questo? Gli informatici o gli ingegneri probabilmente hanno già incrociato questo tipo di definizioni, la ricapitolo brevemente per tutti quanti. L'idea di questa nozione, che è stata formalizzata negli anni Ottanta, è un tipo di software la cui licenza, cioè le cui regole di diritto d'autore nel momento in cui il software è creato, garantiscono agli utenti di questo software una serie di libertà fondamentali. Queste libertà sono la libertà di poter eseguire il software per fare quello che volete, poter studiare come funziona all'interno in una forma che sia comprensibile a degli sviluppatori, ci ritornerò tra poco, e a ridistribuire ad altri copie di questo software, senza che questo sia una violazione del diritto d'autore, che siano copie identiche a come avete ottenuto con questo software, oppure copie modificate da voi. Queste libertà che, se siete degli sviluppatori, sono molto interessanti, e se siete qualcuno che capisce di software, vi permettono di capire cosa fa il software da cui dipendono le vostre vite, non sono libertà che avete con la maggior parte del software che utilizzate. La maggior parte del software che utilizzate, probabilmente, sui vostri telefoni, sui vostri computer, non vi garantisce questo tipo di libertà. Il software libero, sì. Allora, quello che è interessante è che c'è sempre più software libero nelle società, ok? Cioè, si stima che la pressoché totalità di software che esiste sul mercato contiene almeno una parte di software libero. Purtroppo non è completamente software libero, perché i software oggi sono oggetti complicati, sono formati da componenti diverse che si mischiano insieme. Quindi quello che accade è che avete sempre più software libero, almeno in una piccola parte, nei dispositivi che usate, nei servizi che utilizzate, ma non è la totalità dei prodotti che usate a essere in sé libero. Ma la quantità di software libero che conosciamo e che esiste nel mondo tende ad aumentare. Aumenta sempre di più quando sviluppatori decidono di rilasciare ad altri il software che hanno scritto sotto licenze che sono licenze software libero. Quindi mettiamo insieme queste due cose. C'è sempre più software nella società e c'è anche sempre più software libero che rispetta le libertà che vi ho citato. Questo è qualcosa che rientra e si avvicina molto alle nozioni di bene comune, che vengono da molto prima, non sono legate al mondo tecnologico né tanto meno al software. Ci sono varie definizioni che sono state date, qua ve ne cito un paio. I beni comuni, in questo caso la prima definizione non riguarda i beni comuni tecnologici né tanto meno al software, quindi parliamo in generale di beni comuni, sono le risorse naturali o culturali che sono accessibili a tutti i membri di una società. Esempi classici sono le risorse naturali come l'aria, l'acqua e la terra abitabile. E queste risorse, per essere considerati beni comuni, sono risorse che non sono di proprietà privata, cioè non sono in mano di qualcuno che può rendere nell'accesso interdetto ad altri, ma sono di proprietà comuni di tutti i membri della società. Questa nozione di bene comune è stata recentemente anche adattata all'ambito dei beni comuni digitali, di cui il software fa parte. Quindi la definizione di bene comune software, software commons in inglese, consiste in tutto quel software che è accessibile a costo nullo o marginale, il costo marginale si intende il costo di scaricarlo, il costo di avere una chiavetta USB su cui potete copiarlo, quindi costi completamente marginali, e che può essere utilizzato e modificato con pochissime restrizioni. Quindi capite che se prendiamo questa definizione di software bene comune, tutto il software libero di cui abbiamo parlato prima, cioè tutto il software che è disponibile liberamente per usarlo, modificarlo e copiarlo, forma un grosso corpo di software bene comune che è disponibile per tutti i membri della società. Quindi questa quantità di software sta aumentando, questo software bene comune che esiste nella società aumenta sempre di più. Riflettiamo un attimo su che cos'è il software. Allora, la maggior parte degli utilizzatori di servizi o prodotti che sono implementati, almeno in parte in software, si confronta con una forma eseguibile del software, cioè voi usate il software, gli utenti di prodotti software lo usano per ottenere uno scopo. Quindi avete un'applicazione sul vostro telefono che deve fare qualcosa, la attivate, interagite con essa e questa fa qualcosa per voi. Gli informatici conoscono bene l'esempio dell'Alloworld, che è il primo programma che si scrive in qualsiasi linguaggio di programmazione per impararlo, che è semplicemente un programma che stampa la stringa, ciao mondo, sullo schermo quando eseguite il vostro programma. Quel programma lì, quel software lì, esiste in due forme diverse. Esiste la forma binaria, che è quella eseguita da una macchina, da un computer, che se andate a vedere cosa c'è dentro questa forma binaria, è tendenzialmente non intellegibile per un essere umano. È la forma che trovate qua sulla sinistra di questa slide. Quella è qualcosa che ha un valore solo computazionale, cioè un valore per una macchina che può eseguire da fare qualcosa per voi, ma non vi porta nulla di più, intanto che essere umani. Il software invece è scritto dai programmatori in una forma che è comprensibile agli esseri umani, ed è questa forma che si chiama codice sorgente. È quella che vedete sulla destra. Quella che vedete sulla destra è l'equivalente intellegibile del codice binario, si chiama, del software, che vedete sulla sinistra. Allora, quindi, la particolarità qua è che il software è una forma di conoscenza che ha due forme diverse, una che è eseguibile e che interessa solo alle macchine, e l'altra che è leggibile, comprensibile dagli esseri umani e che è fatta per gli esseri umani. C'è questa citazione che a me piace molto della licenza GPL, che è una licenza di software libero, che dice che il codice sorgente di un programma è la forma preferita per poterlo modificare se siete degli esseri umani, ok? Non ci sono molte forme di conoscenza che hanno questa doppia forma. Se pensate alla scrittura, ad esempio, la scrittura ha una forma sola, ed è quella che va bene sia per consumarla, tra virgolette, leggendola, sia che per produrla, cioè per scriverla. Un altro esempio che ci si avvicinò un po' è quello della musica. La musica ha una forma che è quella che vedete quando scrivete su uno spartito, e aveva una forma invece eseguita, che è quella che sentite quando sentite le note di una composizione. Quindi, doppia forma di conoscenza, e il punto importante che voglio sottolineare qua è che solo nella parte a destra, solo nel codice sorgente software, avete della conoscenza per gli esseri umani. E questa citazione bellissima di un collega Abelson, che è un famoso professore di informatica all'MIT, è che i programmi devono essere scritti principalmente affinché gli esseri umani possano leggerli, e solo incidentalmente affinché le macchine possano eseguirli. Quindi i programmatori, quando scrivono software, lo scrivono per degli altri esseri umani, potenzialmente loro stessi, quando mesi dopo dovranno rileggere il proprio codice e capire cosa fa. Ma la forma codice sorgente è fatta per essere consumati da degli esseri umani. E vi do un paio di esempi di codice sorgente che ha un valore per gli esseri umani, quindi per la società, solo in forma sorgente. Sono due esempi. Quello sulla sinistra è un pezzo di codice dell'Apollo 11. Quindi è letteralmente il pezzo di codice 1, una parte del codice, che ha messo il primo uomo sulla Luna, ed è stato, tra l'altro, scritto da un team che ha inventato la nozione di ingegnere del software, la cui capa era Margaret Hamilton. E qui ci trovate un valore storico. Questo pezzo di software ormai non ha più alcun valore eseguibile. Ha fatto il suo, ha fatto ciò che doveva. Tra l'altro ha salvato la missione perché era pieno di tecniche che potevano prevenire potenziali problemi durante la discesa e che sono state utilizzate per evitare che il modulo si schiantasse sulla sua superficie della Luna. Però adesso, oggi, questo è un valore storico. Lì dentro, quel pezzo di codice, soprattutto se andiamo a vedere i commenti, cioè le righe che spiegano cosa fa il codice degli esseri umani, ci troviamo un valore storico che ci racconta come questa prima applicazione software storica è stata scritta. Quello che vedete a destra è un pezzo di codice di un videogioco, di Quake 3. E questo pezzo di codice è un pezzo di codice che ha inventato come fare a calcolare l'inverso della radice quadrata, che è un'operazione molto importante per i videogiochi, soprattutto sull'hardware dell'epoca, in maniera molto efficace. Quindi è qualcosa che all'epoca potrebbe aver avuto lo stesso valore di un articolo scientifico pubblicato in una conferenza di computer graphics. Ok? Quindi quel pezzo di codice lì ha ancora oggi un valore eseguibile. Voi potete oggi eseguire il gioco Quake 3 se siete appassionati di retro gaming e divertirvi, ma il valore di come si fa a calcolare la radice quadrata inversa in quel modo lì lo trovate solo nel codice sorgente. Se avete l'eseguibile potete giocare, ma se volete la conoscenza di come si fa a fare questo modo particolare di calcolo della radice quadrata inversa avete bisogno del codice sorgente. Quindi c'è tanto valore in quel verzo di codice quanto ce ne potrebbe essere in un articolo scientifico che leggete nel contesto di un corso universitario. Quindi, dove siamo a questo punto? Siamo a un punto che abbiamo capito che il software esiste in due forme e la forma eseguibile è utile per fare qualcosa, un valore utilitario, ma solo nel codice sorgente abbiamo conoscenza che è utile per gli esseri umani. Allora, veniamo adesso a riflettere su alcune cose. Quindi, ogni volta che gli sviluppatori producono software, in particolare software libero, stanno contribuendo a questa conoscenza globale di tutta la società che diventa un elemento, una parte del software bene comune. Ma dov'è, tra virgolette, fisicamente questo bene comune? Dove lo troviamo? Cioè, se voi volete capire dove si trova questo bene comune software, dove è andata a cercare? Il mondo d'oggi dello sviluppo software collaborativo avviene principalmente su delle grosse piattaforme. Un esempio che gli studenti che hanno programmato probabilmente hanno già incontrato è quello di GitHub. E sono piattaforme che permettono a gruppi di sviluppatori collaborativamente di lavorare insieme su grossi progetti software scambiandosi contributi di codice e accessorialmente, anche rendendo questo codice disponibile a chiunque abbia accesso a questa piattaforma su internet. È il modo di sviluppo di oggi, funziona così, la collaborazione è sempre più a grande scala e accade principalmente su piattaforme dominanti, come GitHub che ho citato, che offrono servizi, offrono servizi agli sviluppatori e permettono di usare questi servizi per collaborare allo sviluppo software. La piattaforma GitHub, come molte altre, è una piattaforma ospitata da entità for profit, quindi entità a scopo di lucro, come GitHub oggi è di proprietà di Microsoft, e offrono questi servizi al mondo. Lo offrono ovviamente perché vendono servizi associati. Se voi siete un'azienda che volete usare questo servizio, potete farlo, potete usare una versione a pagamento di GitHub per sviluppare il software della vostra azienda in interno senza per forza dover distribuire il vostro software sotto licenze libere a tutti quanti su internet. Quindi questo codice sorgente sviluppato oggi lo trovate su queste piattaforme e lo trovate su altri centri di distribuzione software, come possono essere le distribuzioni Linux, come possono essere i cosiddetti repository di pacchetti software. Quindi avete tanti posti diversi su internet che distribuiscono software a chi ne ha bisogno, compresi gli sviluppatori. Quindi se voi siete un utente che vuole sapere cosa fa quella parte di software libero che c'è nel vostro dispositivo, nel vostro telefono, nella vostra macchina, dovete prima capire qual è il software che c'è nel dispositivo che vi interessa. Non è un problema semplice, è un problema di ricerca, è assai complicato di cui per oggi non parleremo. Una volta che avete identificato quale pezzo di software è installato in esecuzione sul vostro dispositivo, cercate il codice sorgente corrispondente su delle piattaforme come quelle che ho citato e andate a vedere cosa fa, se avete le conoscenze tecniche o se non ce le avete, trovate qualcuno che le ha e gli chiedete di capire cosa fa il software che ha un impatto sulla vostra vita. Il problema è che questi posti che distribuiscono software in formato sorgente non sono per sempre, possono sparire. Ed è già successo in passato. Ci sono state piattaforme che esistevano per sviluppare collaborativamente software e per distribuirlo che oggi non esistono più. Qua cito alcuni nomi, cito Gitorius, cito Google Code, cito una parte di Bitbucket, una piattaforma che esiste ancora ma che ha smesso di distribuire software sotto una certa forma. E perché l'hanno fatto? Vari motivi, ci sono stati casi storici di attacchi che hanno compromesso la piattaforma e distrutto tutti i dati, ci sono state decisioni business. Ad esempio Google, una decina di anni fa, operava una propria piattaforma per permettere lo sviluppo collaborativo di software simile a quello che oggi è Github, ma a un certo punto hanno deciso che non avevano più interesse business a continuare questo prodotto e hanno deciso di chiuderlo. Oggi Github è una piattaforma dominante, lo sarà probabilmente nel ragionevole futuro, ma non ho alcuna idea di, a un certo punto, come tutte le attività umane, sparirà. Quindi tra 50 anni probabilmente Github non esisterà più. Quindi si pone la domanda di se queste piattaforme dovessero sparire un giorno, quel pezzo di software bene comune che è disponibile su quelle piattaforme, se è disponibile solo lì, che non è sempre così, magari altri hanno fatto delle copie sui propri computer, ma potrebbe anche essere solo lì, dove andate a trovarlo? Quindi esistono sistemi di archiviazione, ad esempio di siti web, ma se vi sparisce un, si chiamano repository, questi punti di distribuzione software, su Github, dove andate a cercarlo? O se in un orizzonte di tempo abbastanza lungo l'intero servizio dovesse sparire, dove andate a ritrovare il codice sorgente che è distribuito su quelle piattaforme? Allora, questi temi che rientrano nell'ambito della preservazione digitale sono temi di cui parlano varie entità anche sovranazionali da un po' di tempo. Questa ad esempio è una call dell'UNESCO che ha riconosciuto un po' di anni fa in collaborazione col progetto di cui poi vi parlerò tra poco, il fatto che non c'erano iniziative sistematiche di archiviazione di codice sorgente. La preservazione digitale è un tema, è un ambito che esiste da tantissimo tempo, ci sono iniziative di preservazione digitale per vari tipi di conoscenza e artefatti digitali, per i videogiochi, per il software in quanto entità eseguibile, ma non ce n'erano fino a pochi anni fa per il codice sorgente. Il tema è di interesse anche per gli informatici, qua cito ad esempio Donald Knuth che è un mostro sacro dell'informatica mondiale che fa un'osservazione interessante, quindi per preservare la conoscenza e la storia del software bisogna essere capaci di preservare tutto ciò che gira attorno alla produzione del software. Non basta preservare in sé una copia del codice sorgente, una copia del codice seguibile, bisogna fare delle azioni di sostanzialmente curazione museale che vanno a capire cosa è successo e raccontino la storia dei giorni in cui questo software è stato scritto. E siamo in un momento abbastanza importante, un momento pivot in cui i fondatori di molte dell'informatica moderna come la conosciamo oggi sono ancora vivi, sono ancora tra noi, quindi possiamo approfittare della loro conoscenza per intervistarli, per farci raccontare cosa è successo al momento della creazione di software, però non abbiamo per motivi banalmente naturali ancora molti anni davanti a noi per farlo. Ultimo punto, il software ha anche un valore molto importante nella scienza, ci sono, chi usa software per fare scienza non lo fa solo nell'informatica, non sono solo gli informatici che usano software per fare scienza, ci sono studi interessantissimi, quindi qua ci sono una review dei 100 paper più popolari su Nature che è stata fatta nel 2014, in cui sostanzialmente si osserva come il software sia diventato un elemento fondamentale in tutta la scienza oggi, qualsiasi tipo di ricerca o quasi utili da software per fare analisi dati, per produrre software che è usato poi da altri ricercatori, oppure una quantità di altre attività accessorie che esiste nella vita dei ricercatori. Quindi, come evocava nell'introduzione Federica, garantire l'accesso al software che è usato per condurre esperimenti scientifici o che è prodotto come risultato di esperimenti scientifici, fa parte del triangolo di tipi di informazioni e di artefatti che dobbiamo preservare per garantire la scienza aperta. Quindi si parla molto di open access, cioè garantire l'accesso aperto ai paper scientifici, si parla molto di open data, cioè garantire che i dati usati per condurre esperimenti o prodotti come risultato di esperimenti siano accessibili a tutti. Il terzo elemento è l'accessibilità al software utilizzato per condurre esperimenti. Questo è indispensabile per permettere la verifica di esperimenti scientifici in tutte le discipline e anche per permettere ad altri di riprodurre, rieseguire certi esperimenti. Ok? Per poterlo fare è necessario che il software in questione sia software di cui abbiamo accesso al codice sorgente. Perché se voi mi date in quanto reviewer di un articolo scientifico che è inviato a una conferenza o a un giorno del scientifico, soltanto l'eseguibile del software che esegue i vostri esperimenti, io non ho alcuna speranza di verificare che non avete barato sui dati che andate a produrre. Ok? Quindi è necessario che il codice associato agli esperimenti scientifici sia aperto ed è necessario, se volete poter riprodurre questo esperimento anni dopo, preservare questo codice sorgente almeno allo stesso livello al quale preserviamo i dati e preserviamo gli articoli scientifici essi stessi. Ultimo punto e ci ritornerò. Il software è anche un oggetto di studio. Ci sono discipline scientifiche, questo più precisamente nell'informatica e nell'ingegneria, che studiano il codice sorgente in sé. Io mi occupo di ingegnere del software, avendo a disposizione grande masse di software si possono studiare cose come quali sono i pattern che inducono i programmatori a scrivere software che ha un certo tipo di bug, oppure quali sono, che tipo di cambiamenti automatici possiamo applicare al software per correggere in maniera automatico o semi-automatica dei bug, eccetera, eccetera. Per poter fare questo, gli scienziati che si occupano di ingegneria del software hanno bisogno di grandi masse di codice sorgente da studiare, per studiare le pratiche di sviluppo software di oggi e capire come migliorarle nel futuro. Ok, quindi, facendo il punto su dove siamo arrivati fino ad adesso in questa nostra conversazione, ci sono delle buone notizie, quindi, grazie al software libero che esiste e che è utilizzato nel mercato, tra virgolette, del software da svariati decenni, c'è sempre più software libero che esiste in circolazione sul mercato e c'è sempre più di conseguenza conoscenza tecnologica che è disponibile nella forma di codice sorgente che forma questo bene comune software. C'è un problema, però, i posti che contengono, i posti di distribuzione di questo bene comune software a volte spariscono per motivi diversi, ma possono sparire e quindi bisogna occuparsene per evitare che ce lo facciano. Se dovessero sparire senza alcuna copia, la società rischierebbe di perdere accesso a conoscenza tecnologica importante potenzialmente per le generazioni future. Allora, come evitiamo questa... Non voglio entrare nel dibattito sulla tragedy of the commons, ma il punto qua è che se vogliamo evitare di perdere qualcosa che è importante per la società servono iniziative proattive per farlo. Se lasciamo il controllo di dove è stoccato questo bene comune software al mercato, alle piattaforme esistenti oggi, non c'è alcuna garanzia che non lo perderemo. Quindi bisogna fare qualcosa di proattivo per evitare. Questo qualcosa sono iniziative specifiche, politiche pubbliche e vari altri elementi di cui vi parlerò tra poco. Questo è il motivo infatti per cui qualche anno fa, l'idea nacque nel 2015, il progetto è stato lanciato nel 2016, assieme al mio collega Roberto Di Cosmo lanciamo questo progetto che si chiama Software Heritage. Se devo ora riassumere brevemente in una frase la missione di Software Heritage è quella di recuperare tutto il software che esiste in formato codice sorgente, ovvero nella forma preferita per gli sviluppatori per poterlo modificare, quindi recuperarlo tutto, preservarlo nel lungo termine, idealmente per sempre, e renderlo accessibile a chiunque abbia bisogno di accedervi. questa è la missione ambiziosa che ci siamo dati qualche anno fa con Software Heritage. I casi d'uso che ci siamo immaginati quando abbiamo lasciato il progetto sono diversi. Il primo è quello di fornire una sorta di catalogo di riferimento del software bene comune, un posto dove tutto il software che abbiamo recuperato in formato codice sorgente sia disponibile, indicizzato, come se fosse una grande biblioteca nella quale potete andare per cercare se qualche tipo di software è stato scritto, quando, eccetera. Il primo caso d'uso è quindi un catalogo di riferimento. Il secondo caso d'uso è quello di cui sostanzialmente vi ho parlato fino adesso, cioè evitare che si perda conoscenza che è importante per la società, per le società moderne, e che diventi inaccessibili per le generazioni future. Quindi un caso d'uso tipico di preservazione digitale. Il terzo caso d'uso è quello di una infrastruttura di ricerca, quindi un posto dove gli scienziati che si occupano di quindi ci sono due sotto casi se volete, un posto dove gli scienziati che si occupano di studiare il software possano andare per condurre esperimenti empirici sul più grande archivio di codice sorgente esistente al mondo. Se avete in mente cosa fanno i fisici che sono bravissimi a mutualizzare grandi risorse di ricerca, grandi infrastrutture di ricerca, pensate al CERN, pensate al telescopio nel deserto della Katama che è il Very Large Telescope. L'idea è costruire un posto dove, mutualizzato, dove ci sia l'archivio e ci siano risorse di calcolo e dove possiamo condurre esperimenti di ricerca ripetibili sul codice sorgente. L'altro sottocaso legato alla ricerca è un posto dove gli scienziati di qualsiasi disciplina possano depositare il codice sorgente associato ai loro articoli scientifici in modo da far sì che sia accessibile e che sia preservato nel lungo termine allo stesso livello di qualità di preservazione al quale oggi già preserviamo articoli e dati. Quindi non è un'idea astratta, questo progetto esiste ancora oggi, cresce sempre di più ed è oggi come evocato nell'introduzione il più grande archivio di codice sorgente pubblicamente accessibile e esistente al mondo. Quindi qua ci sono qualche numero che potete verificare se vi interessa sulla home page dell'archivio. Abbiamo archiviato già oggi più di 12 miliardi di file sorgenti unici più di 2 miliardi e mezzo di commit unici. I commit sono la granularità alla quale gli sviluppatori apportano modifiche al codice sorgente e tutto questo in provenienza da più di 180 milioni diversi di progetti software pubblicamente disponibili su Intel. L'idea è di fare solo il blocco solo tra virgolette il blocco di archiviazione e di poter permettere a chiunque altro abbia usi connessi a questo tipo di archivio di poterli implementare dipendentemente da noi semplicemente accedendo all'archivio. Ci sono un po' di principi di base che abbiamo definito e che sono vigenti per come conduciamo il progetto ma dal punto di vista tecnologico il progetto stesso è un progetto software libero questo vuol dire che tutto il software che noi sviluppiamo per far andare l'archivio è software libero e chiunque può partecipare quindi se siete sviluppatori avete partecipato a progetti open source in passato potete riguardare come facciamo le cose che garantisce un certo livello di audit sulle garanzie che diamo di preservazione e contribuire è un archivio che non ha opinioni specifiche su cosa archiviamo quindi è un archivio che tiene traccia di cosa abbiamo trovato e dove e stocca fatti a proposito di questo codice sorgente che archiviamo e infine è un archivio gestito come un'iniziativa non profit con più tipi di attori che ci partecipano questo perché pensiamo che la missione sia abbastanza importante per il futuro della società da non delegarla a dottori che hanno scopi di lucro non perché ci sia necessariamente qualcosa di male in questo ma perché come abbiamo visto le piattaforme che sono sparite in passato gli obiettivi di attori che hanno scopi di lucro possono cambiare abbastanza rapidamente e comunque sia secondo noi troppo rapidamente rispetto a una missione che per sua natura è una missione nel lungo termine non entro in questo talk in dettagli troppo tecnici ma giusto qualche elemento poi se qualcuno è interessato possiamo tornarci nelle domande alla fine allora di fatto un archivio come quello di software che funziona come un crawler quindi simile ai motori di ricerca per il web la differenza è che non facciamo crawling di tutto il web ma partiamo da punti da piattaforme esistenti che sono note per distribuire codici sorgenti quindi facciamo crawling di piattaforme come GitHub GitLab e compagnia facciamo crawling delle distribuzioni Linux facciamo crawling di repository di pacchetti software quindi i posti che sono solitamente usati dai tecnici del settore per sviluppare e distribuire codici sorgenti sono i posti che periodicamente indicizziamo per trovare nuovo software da archiviare rientrando un po' più nei dettagli quando dico che archiviamo software non archiviamo solo i file ok non solo il contenuto testuale dei file sorgenti che vi ho fatto vedere prima archiviamo anche tutto lo svilu la storia dello sviluppo di un software quindi se avete usato strumenti come Git Subversion sistemi che si chiamano sistemi di controllo di versione archiviamo tutta la storia quindi archiviamo tutti i metadati associati allo sviluppo software quindi chi ha modificato qualcosa quando è stato fatto il messaggio di commit la storia delle diverse versioni di un software perché questo è l'unico modo per poter se un giorno quello che si chiama un repository di software dovesse sparire di ricostruire la storia completa di sviluppo e riprendere il suo sviluppo in futuro ok è l'unico modo di farlo quindi archiviamo molto di più che semplicemente il codice sorgente tutto questo è stoccato in una struttura datica un grafo un grafo di Merkel questa è una struttura crittografica che permette di deduplicare tutte le copie identiche di artefatti software e anche di offrire sostanzialmente una visione globale di chi ha usato un certo file sorgente o una certa versione di software all'interno della totalità dell'archivio quindi tutto questo sostanzialmente fa sì che oggi quello che è l'archivio di software di Riteg sia un grafo globale che vi mostra un po' la mappa delle stelle del software bene comune ed è un oggetto di una taglia significativa quindi l'archivio in sé oggi è quasi un petabyte di dati che non è grande tanto quanto un archivio di video se pensate archiviare youtube ha requisiti di volumetria molto più significativi ma che comincia a essere un oggetto che richiede abbastanza risorse per essere stoccato soprattutto se considerate che bisogna avere più copie eccetera questo giusto non entro nei dettagli ma ogni ogni artefatto che archiviamo nell'archivio quindi ogni nodo di questo grafo che vedete qua sulla destra è identificato da una stringa che si chiama un identificativo tipo SWEED che contiene una sorta di identificativo criptografico del contenuto di quel nodo in questo cosa serve serve a garantire l'integrità se voi recuperate un file che non abbiamo archiviato è associato a un'etichetta una stringa come quella che vedete in questa slide che vi permette una volta avendolo recuperato di verificare l'integrità cioè che né noi né nessun altro ad esempio al momento dello scaricamento abbiamo modificato il contenuto del file questo se volete ci torniamo al momento delle domande questo è molto importante perché alcuni identificativi che usiamo ad esempio per gli articoli scientifici come i DOI o i DOI non hanno questa proprietà quindi se voi recuperate oggi un identificativo a un paper in formato digitale cosa c'è dietro a quell'identificativo potrebbe cambiare da qui a due giorni o da qui a 50 anni questo è fatto per rispondere a certi bisogni dell'industria dell'editoria scientifica ma è potenzialmente problematico per il software cioè se voi oggi archiviate un pezzo di software del nostro archivio è importante che se lo recuperate tra due giorni o tra vent'anni possiate verificare che sia esattamente ciò che avevate depositato il giorno 13 novembre 2022 questo tipo di identificativi crittografici offrono queste garanti allora abbiamo un qualche minuto per farvi un esempio quindi se voi volete usare l'archivio potete andare su la home page dell'archivio in sé e cercarci cose tipo codice sorgente di quei di cui parlavamo prima qua ad esempio trovate quindi potete cercare il software se avete il software pubblicato su distribuzioni linux o piattaforme di sviluppo online potete cercare il vostro software per vedere se l'abbiamo archiviato qua ad esempio trovo la copia archiviata del codice sorgente intero di Quake 2 il videogioco di cui vi parlavo disponibile sotto licenza libera e l'interfaccia qua è molto simile a quella di navigazione dentro delle piattaforme come di Tab la differenza è che questa versione qua è una versione archiviata quindi domani il proprietario del repository su Github o Microsoft se decidesse di chiudere il servizio Github o di rendere la pagamento perdereste accesso a quella risorsa non perdereste accesso alla copia archiviata di questo progetto da noi quindi questo è un esempio classico ci sono altri esempi quindi se torno a qua c'è l'esempio ad esempio che vi ho fatto vedere prima del codice sorgente di Apple no scusate questo è il blog post dove raccontiamo queste cose qua trovate la copia archiviata di un pezzo di codice quindi qua ad esempio c'è un racconto della Master Ignition Routine del codice sorgente di Apollo 11 archiviato da noi e un valore di anche questo è ospitata già oggi su Github ma è ospitata sul repository di uno sviluppatore che ha deciso di pubblicare il codice recuperato dal computer history museum sul suo repository Github che potrebbe sparire questa copia invece è archiviata e vi garantisce una certa perennità di queste informazioni scusate non uso Windows da vent'anni quindi sono un po' un po' perso quando passo da una slide all'altra ci sono altre cose quindi le slide le metterò a disposizione trovate ad esempio degli esempi di articoli scientifici che cominciano a usare questo nostro archivio per associare codici sorgenti ai paper eccetera e quindi questi ve li lascio potete giocarvi da solo dopo il nostro tour allora prima di concludere vi racconto qualche altro esempio di uso scientifico in questo archivio quindi abbiamo detto che creando questo archivio forniamo anche ai ricercatori un luogo e un insieme di dati su cui si possono fare analisi a veramente grande scala su il codice sorgente qua vi faccio qualche esempio sono articoliniere ce ne sono ovviamente fatti anche da altri ma giusto per darvi un'idea di cosa si può fare questo ad esempio è uno studio nel quale mostriamo che la quantità di codice sorgente disponibile pubblicamente su internet è cresciuta in maniera esponenziale dagli anni 90 fino ad oggi il trend continua ancora ok quindi le crescite esponenziali sono sempre qualcosa che fanno potenzialmente paura qui non vuol dire che necessariamente aumenta sempre di più il codice prodotto anche se probabilmente è così ci possono essere più fattori ci può essere il fattore di codice che prima non era libero e che viene pubblicato è il caso di quake 2 di cui vi ho fatto vedere ci può essere che le pratiche di sviluppo software diventano sempre di più collaborative e aumentano l'efficienza dello sviluppo fatto sta che questo è un fenomeno interessante anche dal punto di vista della sostenibilità di un archivio che voglia preservare tutto il codice sorgente però se siete curiosi questa crescita esponenziale è più lenta del calo esponenziale dei costi di storage quindi per adesso non ci sono rischi di non riuscire più un giorno a pagare i servizi di stoccaggio necessari per l'archivio un altro esempio che mi sta a cuore è quello dell'analisi del codice pubblico dal punto di vista della diversità allora la bassa partecipazione delle donne nel mondo IT e nello sviluppo software è una cosa studiata da decenni in sociologia e in molti ambiti quello che abbiamo fatto è vedere con delle analisi basate su delle eroistiche obbligatoriamente a che punto osservando i 50 e passa anni di storia di sviluppo software pubblico che abbiamo nell'archivio se il ratio la proporzione di autori riconoscibili come uomo e autori riconoscibili come donna basandosi solo sul loro nome pubblico quindi con tutte le limitazioni che questo comporta però vedere questi trend se aumentano o calano e abbiamo verificato che la quantità in tutto l'archivio di codice che è riconoscibile come essere stato contribuito da donne è in termini astratti bassissima ma c'è un trend positivo che va avanti da 15 anni ormai che ha fatto sì che per la prima volta nel 2019 il 10% dei contributi al codice pubblico provenienti da quindi tra tutto l'archivio venissero da autori donne quindi un trend positivo che resta bassissimo perché il 10% ovviamente è una quantità indecentemente bassa ma il trend positivo da 15 anni fa sì che sia in crescita la quantità di contributi che vengono da donne poi è arrivato il covid e questo ha abbassato di brutto questo ratio sto parlando di proporzione quindi come mostrato in altri ambiti in altri studi anche qua abbiamo verificato che la pandemia ha fatto sì che la capacità delle donne di contribuire al codice pubblico per motivi di ingiustizia sistemiche nei rapporti familiari eccetera abbia fatto sì che ci sia stato un calo nel contributo femminile al codice del 2020 questo è un esempio abbiamo altri esempi sulla differenza geografica che è un altro tema interessante molto dibattuto nell'ambito IT nell'ambito software storicamente gli sviluppatori software sono stati bianchi nordamericani o europei hanno fatto studi che mostrano che sta aumentando la diversità di contributi su base di origine geografica a tutto il codice che possiamo che abbiamo stoccato nell'archivio di software vado veloce su quindi giusto per concludere così lasciamo un po' di tempo per le domande allora l'utilizzo di questo strumento di questo archivio sta aumentando sta aumentando nelle pratiche scientifiche quindi ci sono una certa quantità di riviste scientifiche e di archivi open access che hanno collaborazioni con noi per fare in modo che i ricercatori che depositano articoli scientifici in open access possano associare a questi articoli scientifici il codice sorgente che hanno usato per condurre gli esperimenti e questo codice sorgente è automaticamente archiviato in software heritage e referenziato con uno di quegli identificativi che vi ho mostrato prima quindi questo è un miglioramento nelle pratiche scientifiche importanti ci sono anche un aumento di adozione dal punto di vista delle policy per esempio in Francia siamo da ormai due edizioni parte del piano nazionale francese sulla scienza aperta che raccomanda a tutti gli scienziati che si interessano scienza aperta di rendere disponibile il codice sorgente dei loro esperimenti sotto licenze software libero e di archiviarlo a lungo termine in un progetto come software heritage che possono decidere di archiviarlo altrove ma comunque di preoccuparsi di archiviare anche il codice su archivi digitali fatti per durare nel tempo ultimo punto abbiamo parlato del fatto che sia un'iniziativa non profit è comunque un'iniziativa che ha bisogno di risorse e di supporto quindi se volete poi possiamo discutere più in dettaglio è un'iniziativa che è supportata da una certa quantità di in francese si chiamano le società scientifiche e culturali in vario ambito quindi ci trovate degli attori non profit del mondo del software libero ci trovate delle società scientifiche informatiche e non ci trovate l'UNESCO con quale siamo in collaborazione fin dall'inizio del progetto che sostanzialmente ha riconosciuto che non c'era nessuna altra iniziativa sistematica per l'archiviazione del codice sorgente del software c'erano già iniziative di preservazione digitale c'erano già iniziative di preservazione di software eseguibile non ce n'erano su il codice sorgente e quindi sulla conoscenza includa nel codice sorgente e sugli sponsor ci trovate molti attori pubblici ci trovate organismi scientifici ci trovate università ci trovate ministeri di vari stati ci trovate anche degli attori for profit gli attori for profit offrono risorse di stoccaggio o che permettono di mantenere l'archivio ma ci teniamo molto ad avere una diversità la più ampia possibile di fonti di finanziamento per evitare di dipendere dalla volontà di attori for profit individuali concludo su questa slide che vi lascio per il tempo delle domande quindi se siete interessati al progetto potete dare una mano in vari modi gli scienziati possono aiutare a promuovere le pratiche scientifiche di archiviazione del codice sorgente i tecnici e gli studenti che si interessano di sviluppo software possono aiutarci nello sviluppo del software che è necessario per eseguire l'archivio se siete interessati potete usare i servizi per depositare vostri repository di codice che non siano ancora indicizzati non l'ho fatto nella demo ma c'è un servizio che si chiama save.softwareheritage.org nella quale mettete l'url di un repository git o altro disponibile pubblicamente e automaticamente fa sì che i nostri crawler vengano a visitare il vostro repository e lo archivino da noi ci sono delle iniziative di programmi di ambasciatori che vogliono promuovere il progetto qui potete partecipare e ovviamente gli attori più corporate possono partecipare anche come sponsor o creando copie dell'archivio in giro per il mondo vi ringrazio per la vostra attenzione e direi che abbiamo una decina di minuti per le domande abbiamo tempo per qualche domanda commento c'è qualcuno rompo io il ghiaccio la prima e la mutuo un po' da una discussione che è emersa anche ieri pomeriggio a valle della presentazione di Roberto di Cosmo il fatto di mettere a disposizione tutta questa mole immensa di di codice aperto e quindi come tu hai ben detto è una conoscenza intellegibile ovviamente è subito visibile come un qualcosa di buono di ottimo però può anche avere delle come dire delle contropartite o dei pericoli se puoi fare una riflessione su questo posso immaginare vari tipi di pericoli che hai in mente ma l'esempio classico una domanda che viene spesso posta ma quindi archiviate anche codice dei virus o di software usati per fare attacchi informatici e la risposta è sì e il mio punto di vista è che non è che perché li rendiamo disponibili noi diventino più usabili e possono fare più danni diciamo quando arrivi lì con quella barca è già salpata come si direbbe in inglese quindi il punto è che una volta che questi sono disponibili archiviarli ha un valore storico e ha un valore di conoscenza di cosa è successo nel mondo in questo caso nel mondo del software a un certo momento T quindi ovviamente non sto sostenendo che la tecnologia sia neutrale non lo è ma l'archiviazione in sé è abbastanza neutrale quindi l'archiviazione di conoscenza che in generale è una cosa buona tra virgolette poi ovviamente rispettiamo tutte le leggi del caso quindi eventuali violazioni d'autore ci sono leggi per dire bisogna rimuovere questa cosa che avete archiviato che non doveva essere pubblica e questo ovviamente rispettiamo tutte le leggi applicabili del caso sono tutti timidi nessuno non c'è nessuno che si propone io ne avevo in mente un'altra mi è sfuggita dalla mente un aspetto è capire dal punto di vista proprio anche tecnologico e dello sviluppo futuro di questo progetto come dire se vedete una via ormai in discesa oppure se ci sono comunque degli aspetti critici sì sì assolutamente quindi ovviamente la lezione di oggi era sugli aspetti più filosofici e di missione ma c'è tutta una agenda di ricerca dietro banalmente se qualcuno si interessa di big data lo stoccaggio di grafi e l'analisi di grafi a questa dimensione qua siamo alla frontiera di cosa possiamo fare dal punto di vista della ricerca quindi esistono strumenti ad esempio per stoccare e analizzare il grafo del web è più grande del nostro grafo ma questo resta comunque un grafo enorme con una quantità di dati associati significativa che rende molto difficile le analisi a questa scala quindi lì è un solo esempio di sfida tecnologica e di ricerca che è completamente aperta quando parliamo di questo tipo di strutture di dati e ce ne sono una caterva quindi dagli studi socio-tecnologici come alcuni degli esempi che ho dato è veramente una mirada di problemi e di opportunità quindi no non è affatto in discesa il tema soprattutto per l'analisi diciamo l'archiviazione in sé è relativamente facile ma poi l'analisi è un altro prego grazie a quello che hai detto per una determinata classe di codici per esempio mi viene in mente machine learning reti neurali l'intelligenza artificiale lì non è sufficiente avere a disposizione soltanto l'algoritmo ma è cruciale sapere come questo algoritmo è stato allenato allora lì come si può regolare un'iniziativa quindi posso dire che questo archivio è una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire la reproducibilità o l'analisi di sistemi moderni di machine learning penso ai big language model di cui si parla adesso no archiviare il software è necessario tipicamente questi big language model sono il training è fatto con prodotti open source perché il mondo dei framework per fare l'intelligenza artificiale oggi è quasi completamente aperto cosa diversa sono i modelli e i dati dei training ovviamente quindi se vogliamo andare verso la riproducibilità e la possibilità di analizzare queste tecnologie archiviare quello che troviamo noi è necessario è indispensabile non è sufficiente diciamo che per adesso siamo voluti stare su un solo problema che è già abbastanza complicato in sé e ciò che abbiamo fatto è garantire che tutto ciò che archiviamo noi sia referenziabile in un modo corretto ne ho parlato molto brevemente di questi identificatori eccetera e fare in modo che così altri che archiviano altre cose possano fare il link con quello che archiviamo noi e viceversa in un modo scientificamente sensato detto questo un archivio comprensivo che dice ah questo sistema di intelligenza artificiale è stato abbiamo fatto training col codice che è là con i dati che sono là e il modello prodotto è questo oggi a mia conoscenza non esiste ancora questo tipo di base di conoscenza se non ci sono altre domande direi che ti ringraziamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti